Buongiorno a tutti dal vostro Opress, io non lo sapevo, ma c'è Steven Seagal anche ai gigli, ho visto Steven Seagal ai gigli appoggiato con un braccio dove era a una serranda, perché sapete che non tutti i negozi ai gigli, che è in Toscana, Campi Pisenzio, i comuni Campi e c'era Steven Seagal, ora mi devo spostare, faccio vedere che è tutto vero, vedete, c'è il parcheggio, sono il parcheggio sopra, vediamo un po', qui non inquadriamo, sennò mi levano qualche soldi, insomma, non l'ho visto Steven Seagal, poi c'era uno dietro con cappuccio, non so se era il suo figliolo, Steven Seagal, ti saluto, ricordando a tutti che Steven Seagal era proprio sfida in Seagal, era proprio, era proprio di luce, non volevo, no, sta casetta di legno, ma non mi piace per niente, di legno, sono per il cemento, sono per il cemento armato, questo in Seagal era, lui l'ho appoggiato a un braccio alla serranda, c'era un ragazzo, io credo fosse il suo figliolo, era irato, era irato, non è vero, non so che faceva, vabbè, nulla, io ho detto, cavolo, anche qui, lui mi ha detto, vai, vai, vai a fare il video, come io, a tutti che sono qui, dove? Ho detto, ai figli, a Campi Bisenzio, il comune di Campi Bisenzio, il centro commerciale, credo, più grande della tua scuola, niente, vi saluto, vi ho portato questo messaggio, io sto guardando a questo cellulare che ce l'ho solo io, il articolo, che fa sempre queste foto, queste inquadrature, che dà le immagini in prima copertina che non capisco, davvero devo fare qualcosa, buona giornata a tutti.